buongiorno carissimi amici della riete andiamo a vedere anche per voi attraverso questo breve video che cosa vi porterà la luna piena in vergine luna piena in vergine del 24 febbraio 2024 quindi vediamo a voi della riete che cosa invece porta sarà un breve video giusto per darvi delle novità cosa porta la luna piena in vergine al segno della riete in questo 24 febbraio 2024 qui c'è una decisione c'è una decisione netta una decisione molto importante da dover prendere perché state vivendo una situazione comunque di blocco dove ci sono delle difficoltà delle problematiche e questa decisione che dovrete andare a prendere vi deve portare a uno sblocco di qualcosa oppure ad avere delle gratificazioni a livello probabilmente sentimentale può essere che dovete decidere se allontanarvi da qualcuno chi scegliere fra i due oppure decidere a livello proprio sentimentale quali sono le giuste la giusta il giusto comportamento la decisione giusta da dover prendere a livello sentimentale vediamo che cosa vi consigliano le carte per voi della riete su questa decisione netta da dover prendere in merito a questa situazione bloccata che state vivendo voi sapete che nella coppia c'è una terza persona ok e sapete che la presenza di questa terza persona non vi permette di farvi evolvere andare verso questo cambiamento e quindi dovete decidere se allontanarvi o meno da chi volete o se siete voi proprio a prendere la decisione di rimanere con l'uno o con l'altro ok per cercare di migliorare o ritornare addirittura all'ovile le carte mi dicono che il cambiamento c'è e che per voi comunque qualsiasi decisione andrete a prendere purché sia una una decisione dove si è avuto una bella introspezione una bella riflessione porta comunque a un miglioramento della vostra della situazione che vivete di voi personalmente ma sapete che vi dovete allontanare da qualcuno o qualcuno che sta vicino a voi o qualcuno che comunque è nella coppia ci sono delle ottime notizie comunque sia per voi e c'è della serenità ma solo dopo aver preso questa decisione molto importante riflettete bene guardatevi dentro non vi fate scappare assolutamente nessun nessuno non vi fate scappare nessun dettaglio ecco che è importante quando si devono prendere delle decisioni molto importanti questo è quanto per voi carissimi amici della riete io vi ringrazio un abbraccio a tutti voi a presto